Allora, buongiorno, stiamo uscendo dal Vaticano in incontro con Papa Francesco che ci ha ricevuto insieme con 400 frate di tutti gli ordini per parlare un po' della comunione, della spiritualità francescana comune e di cercare sempre di costruire un mondo migliore con tutte le sforze che abbiamo essendo frati minori. Che Dio continui a benedire questo cammino che stiamo facendo insieme, questa comunione e questo vero futuro che si trova nelle mani di Dio. Era una grande gioia per noi tutti stare con Papa Francesco e lui ha preso anche tempo spesso per salutare ogni singola frate e per cercare di comunicare il bene, il bene suo per il nostro ordine. Allora, è una grande gioia per noi tutti oggi qui a Roma. Grazie. Grazie.